Assessore Cavatton, provvedimenti in vista per chi effettua il nomadismo dei rifiuti e per chi sbaglia anche la raccolta differenziata? Beh, chi effettua il nomadismo, cioè cittadini residenti in altri comuni che vengono a scaricare il loro rifiuto nel comune di Padova, ecco, in questo caso non c'è nessun errore. Si tratta di comportamenti scorretti che vanno sanzionati. Il comune di Padova ha aumentato la sanzione da 200 a 300 euro e aumenterà i controlli attraverso un coordinamento della Polizia Municipale e anche dei soggetti che verranno utilizzati, impiegati attraverso il progetto lavoro con voucher. Ecco, chi sbaglia però non sarà sanzionato immediatamente? I nomadi dei rifiuti? Di sicuro sì. Siccome però a Padova esistono delle zone critiche, quali ad esempio il centro storico, dove è necessaria la collaborazione anche dei cittadini e degli esercenti pubblici esercizi, nel rispetto non solo delle modalità di conferimento, ma anche nella tempistica imposta loro per il conferimento, avvieremo un monitoraggio dove riscontrate delle illegittimità faremo un avvertimento e se questa modalità scorretta di conferimento continuerà, provvederemo a sanzionare. Non vi è altra soluzione, perché se da un lato è giusto, e il Comune lo fa ogni giorno, richiamare l'azienda che esercita il servizio di gestione e smaltimento del rifiuto ad una maggiore efficienza, è altresì necessario che anche gli abitanti facciano la loro parte, conferendo i rifiuti negli orari che sono indicati nel regolamento. Anche perché così si potrebbe ridurre anche delle tasse? L'amministrazione comunale sta anche in questo, cioè nella riduzione del costo complessivo, operando una strenua trattativa con l'azienda che fornisce il servizio, cioè Acegas, APS e AMGA, e noi puntiamo ad una riduzione del costo complessivo del servizio di almeno il 5%, quindi all'incirca 2 milioni di euro. Questi 2 milioni di euro in meno, che comunque devono fare il passo con un efficientamento del servizio, servizio serviranno per diminuire la tassazione attraverso l'Atari in capo ai cittadini.